Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati, io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Leone, tendenze energetiche e affettive per la prima parte di febbraio 2023. Wow! Carta del matto e carta del giudizio, ragazzi. Direi che per quello che riguarda la prima parte di febbraio potrebbero esserci dei nuovi inizi. Sono entrambe carte che parlano di rinascita, appunto, di nuovi inizi, di nuove avventure, di questioni che iniziano ad avere una nuova energia, mi verrebbe da dire, perché comunque quando c'è la carta del matto si parla sempre di un'energia pura, solare, genuina e la carta del giudizio in sé parla anche di risveglio, di rinascita. Risveglio, che può essere anche spirituale, ragazzi. In effetti, molte volte la carta del giudizio viene identificata come la carta della chiamata, che può essere sì la chiamata di tipo fisico, quindi magari una notizia che riceverete da parte di qualcuno, oppure può essere una chiamata di tipo spirituale, ok? Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto, come sempre, vi ricordo che le letture sono collettive, sono fatte per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non doveste risuonare proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare Ascendente, Segno Lunare o Venere. Sotto, nella descrizione del video, poi trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi. Trovate anche altri link a video che vi potrebbero interessare, come per esempio le letture semestrali del 2023. E trovate la mia mail, che comunque vedete scritta anche qui, nel caso vogliate contattarmi. Allora, sono uscite un sacco di carte in più, le tengo giusto per riferimento. Allora ragazzi, iniziamo con la regina di bastoni al contrario, la giustizia al contrario, l'appeso al contrario, l'imperatrice al contrario, il re di spade, abbiamo un 5 di spade e un 9 di coppe. Allora, qui ho come la sensazione che ci sia un potere femminile che non riesce ad esplodere. Sia che siate uomini o che siate donne, tenete sempre presente che ognuno di noi ha dentro di sé la polarità maschile e la polarità femminile. Qui ho come la sensazione che quello che è la vostra polarità femminile faccia fatica, appunto, a venire fuori, ad esprimersi. E' un po' come se fosse una mancanza di potere personale. La carta della giustizia al contrario, ragazzi, vi dico che può essere un'ingiustizia che voi o riceverete o probabilmente può anche essere che vi comportarete in modo poco giusto e per qualcuno fa riferimento ad una rottura di contratti. Questo lo andiamo poi a vedere dopo con i mini tarocchi. Sta di fatto che poi abbiamo l'appeso al contrario e qui si parla di uno sblocco, quindi c'è qualcosa che si smuove e in effetti l'energia di base è proprio quella. Ripeto, poi andiamo a vedere meglio questa regina di... Scusate, questa imperatrice con i mini tarocchi, ma qui ho proprio come la sensazione che ci sia un progetto che non riesce o che si faccia fatica a far partire. Le sento un po' come vi posso dire, un po' tutte e tre collegate queste carte, nel senso che probabilmente c'è qualche cosa che non è giusto, non è fatto in modo corretto, perché la giustizia parla anche di fare le cose in modo giusto, in modo equilibrato, corretto e anche in regola, perché potrebbero essere dei contratti da fare in forma scritta. Ed è come se questo impedimento non vi desse modo di espandervi. Può anche essere una questione legata a... Se per caso avete una persona in testa, può anche essere che questa persona non sia del tutto separata, non sia single, perché quando c'è una giustizia al contrario può anche essere che ci sia un matrimonio ancora di mezzo a livello, diciamo, burocratico, a livello legale, ok? Abbiamo poi anche un re di spade, il 5 di spade e il 9 di coppe. Allora, diciamo che poi sono uscite anche il 7 di bastoni, l'asso di coppe, la carta dell'eremita e il cavaliere di bastoni. Allora, possono essere due le interpretazioni. Il re di spade potrebbe rappresentare la persona con la quale state vivendo questa ingiustizia, di conseguenza arriva questo 5 di spade che è un po' la confusione mentale, il fatto che non sapete bene, fondamentalmente il 5 di spade è una carta che parla di lotte della mente, quindi le discussioni fatte giusto per fare, quelle parole anche alle volte taglienti che si dicono ma che non si pensano, dove però in una reale, diciamo, soluzione al problema non si trova. E sono quelle discussioni, quelle lotte un po' snervanti, un po' che scaricano, che drenano. Nonostante tutto la lettura finisce con un 9 di coppe che è una carta di sogno compiuto, quindi andremo a vedere con i mini tarocchi il perché di questa evoluzione. Quello che si sento, ragazzi, con queste carte che vi dicono fondamentalmente di amare voi stessi, di concentrarvi su di voi, iniziare questa nuova conoscenza, perché avete il 7 di bastoni che è una carta che parla di mantenere le energie focalizzate su di sé, mentre la carta dell'eremita parla di fare un lavoro di introspezione, di autoanalisi. L'eremita è una persona che va, parte per un viaggio da solo, perché ha bisogno di imparare a conoscersi meglio e ha tutte le esperienze e le caratteristiche per farla. Si tratta di iniziare ad amarsi, è come dire, devo iniziare a fare qualche cosa per me stesso o per me stessa, come questa sensazione. Va bene, andiamo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. La regina di bastoni al contrario. Due di coppe, dieci di coppe, imperatrice al contrario, che avevate anche qui. E' come se, ripeto, allora per qualcuno potrebbe essere che manchino i figli, ragazzi, perché qui vedo che comunque c'è una relazione, c'è una sorta di stabilità, però è come se mancasse qualcosa per farvi sentire completi. Può essere l'essere madre o l'essere padri, indipendentemente dal sesso che abbiate, però diciamo che con la carta dell'imperatrice si fa un po' più riferimento all'atteggiamento di tipo materno, quindi è un po' come se mancasse. E' anche una carta che parla di espansione, quindi per certi versi è come se avessero aggiunto un certo tipo di equilibrio in questa relazione, ma non riuscisse ad andare al passo successivo. Se per caso non avesse nessuno in questo momento, questa potrebbe essere una dinamica che si ripete, o la dinamica da cui arrivate. Cioè magari state conoscendo delle persone, ma non si riesce mai ad andare oltre ad un certo punto. Andiamo a vedere perché c'è la giustizia al contrario. Allora abbiamo la carta della sacerdotessa e gli amanti. Sì, può essere che sia una questione di amor proprio o di anime gemelle, ragazzi. Ho come la sensazione che per qualcuno questa relazione vi possa insegnare a darvi di più il giusto valore. E nel caso non abbiate nessuno è come se doveste prima imparare a darvi il giusto valore. Perché se non avete nessuno, un re di spade c'è. Potenzialmente potrebbe essere una persona che entra più grande di voi. Potrebbe essere una persona con la quale tra l'altro è anche molto bello parlare, con la quale c'è sintonia mentale. Ma alle volte il parlare troppo, diciamo che potrebbe generare delle incomprensioni. Ecco, andiamo a vedere l'appeso. Allora, l'appeso è spiegato dal sole al contrario e dall'asso di spade al contrario. Ripeto, sono due carte che mi parlano di qualcosa che non si espande, che fa fatica a nascere. Anche se poi l'appeso in questo caso è al contrario, quindi in un certo modo le cose iniziano a sbloccarsi, ma al punto è che qua bisogna parlare chiaro. Qui vi dicevo che c'erano le lotte della mente, le discussioni, e qua c'è proprio la comunicazione che in questo caso, avendo l'asso di spade al contrario, manca, è carente. O c'è qualche verità che non viene detta, o semplicemente manca una comunicazione di un certo spessore. Andiamo a vedere l'imperatrice al contrario. La torre al contrario, il 6 di bastoni. E come questa imperatrice la sento molto legata a un ruolo. Allora, se per caso la vostra persona di interesse è una persona che effettivamente non è ancora fuori da un matrimonio, o magari siete voi che non siete fuori da un matrimonio, questo comunque impedisce a voi o all'altra persona, adesso dipende da chi siete voi, però comunque di prendervi il giusto ruolo all'interno della relazione. O come questa sensazione? Come se sì, la relazione c'è, va bene, felice, ma è come se... Io parlo di donna perché qui c'è un'imperatrice e una regina di bastoni, quindi sento che c'è una forte componente femminile, però il punto è che qui non si viene riconosciuti nel ruolo di fidanzata magari, o moglie, proprio perché c'è già una certa situazione in atto, secondo me. Oppure, se non fosse così e magari avete conosciuto semplicemente questa persona, c'è qualche cosa che non è chiaro, che non è portato alla luce, perché quando c'è la giustizia e il contrario si tende un po' a nascondere. Andiamo a vedere il re di spade. E qui è quello che avete bisogno di essere riconosciuti, di sentirvi riconosciuti. Allora, abbiamo un tre di spade, un cinque di bastoni e un cinque di coppe. Wow, cinque, cinque, cinque. Io credo che questo re di spade sia la persona con la quale ci potrebbero essere questi disguidi, questi scontri, mi viene da dire, no? E ha anche un po' di delusione, perché c'è un cinque di coppe, c'è un tre di spade. Quindi ho come la sensazione che questa torre in qualche modo la sentirete nelle discussioni, in quello che si dice e in come lo si dice. Andiamo a vedere il cinque di spade. Fante di spade e regina di coppe. Potrebbero essere delle discussioni legate ai figli, legate a una famiglia di origine, legate a una madre, visto che comunque abbiamo la regina di coppe e qui abbiamo due volte l'imperatrice. Sì, ragazzi, per qualcuno può anche essere che sia una situazione particolare che magari avete con la madre, con una madre, che in qualche modo porta questi attriti a livello di coppia. Andiamo a vedere il 9 di coppe. 8 di bastoni. Wow! 8 di bastoni, 8 di coppe e re di bastoni. Quindi sento che alla fine, ragazzi, la comunicazione arriva con questo 8 di bastoni. Ma perché? Perché c'è... Guardate, anche qui avevate la carta del remita, qui è uscito l'8 di coppe. sento che comunque c'è una sorta di introspezione, di autoanalisi. E anche qui la vediamo con il 7 di bastoni. E com'è il... Troverete il vostro centro e la vostra fiamma interna, io sento. Cambia qualcosa nelle comunicazioni con il vostro partner, comunque. Cambia qualche cosa, cambiano gli equilibri, ci sono dei nuovi inizi. Non vi nego che potrebbe essere un periodo un po' spinoso per qualcuno da gestire, ma comunque vi ricordo che la carta base era il matto e la carta del giudizio. Quindi in qualche modo la comunicazione arriva. Se non è una comunicazione in senso letterale, è una presa di consapevolezza. Ma considerato che c'è qui l'8 di bastoni e l'asso di spade qua, può essere veramente quella chiacchiera che risolve una questione, che mette in ordine, che regolarizza quello che prima non lo era. Andiamo a vedere ancora un oracolo e poi andiamo a vedere una carta delle fatine. Io intanto voglio ringraziare tutte le persone che scrivono i commenti. A me piace sempre leggerli, quindi grazie davvero di cuore a tutti. Non ho più molto tempo di rispondere, ma sappiate che li leggo. Grazie anche alle persone che mettono like, che si iscrivono, che condividono, che lasciano una donazione, perché è molto importante per me e per il canale, insomma, avere un vostro riscontro. Bene. Ok. Carta numero 24. E' tempo di fare un sonnellino. Mi piace questa carta. E' come se vi dicessero che è ora di riposare, di lasciare che le cose si sviluppino, che è senza fare necessariamente. E poi abbiamo... Ah, questa carta la adoro. Carta numero 31. Perché? E' importante chiedersi il perché delle cose, il perché noi ci comportiamo in un certo modo. Perché molte volte è il nostro ego che ci fa sentire un po' intrappolati, no? Che ci fa fare cose che magari differentemente non avremmo fatto. Quindi, una volta che uno si chiede il reale motivo del perché io voglio quella cosa lì, perché io ho quell'obiettivo, perché mi interessa così tanto, cos'è che mi spinge, vi ripeto, potrebbe essere una sorpresa scoprire che, una volta capito qual è il reale motivo, che non vi interessi più. Quindi, magari cambierete atteggiamento. C'è un lavoro che si fa, si chiama il lavoro proprio di perché, ed è molto interessante, è un lavoro di autoanalisi. E qui avete comunque sia la carta dell'eremita che la carta dell'otto di coppe, che vi porta a fare questo tipo di autoanalisi in questo periodo, ok? Andiamo a vedere ancora una carta delle patine. Intanto, per te che ti sei fermato fino alla fine del video, visto che febbraio è il mese dell'amore, do in promozione la lettura sull'amore fino al 28 di febbraio. Quindi, nel caso avesse una relazione, andiamo a guardare, insomma, la relazione nei prossimi mesi, e invece nel caso fossi single, andremo a vedere, a fare un identikit, diciamo così, della prossima persona che incontrerai, insomma, per la quale varrà la pena, ecco. Quindi, se mi volete contattare per avere altre informazioni, l'email è questa. Unità. Dov'è, dov'è, dov'è? Sette di bastoni. C'è un mazzo, quello... che non mi ricordo come si chiama, dove fa vedere, più o meno è la stessa immagine, però c'è una sorta di bolla intorno, e mi ricorda questa bolla. Qui ho come la sensazione, che vi dica, di essere uniti con voi stessi, di essere coerenti con quelli che sono i vostri valori, i vostri pensieri, di focalizzarvi voi sul vostro centro, senza farvi distrarre da tutte quelle che sono le cose esterne, i pettegolezzi, piuttosto che le discussioni, piuttosto che... sento che qualcuno è come se vi punzecchiasse in questo periodo. Rimanete integri, fondamentalmente, è un po' quello che vi dicono. E poi, un'altra sfaccettatura di questa carta, è di cercare l'unione con le persone che sono vicino a voi, e qui lo sento un po' più dal punto di vista degli amici. Bene, cari amici del leone, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Ciao!